L'amministrazione sostenere appieno una volontà che è nata proprio dalla comunità di Moncioni e ringrazio il rappresentante, il dottor Fabio Burzi, che hanno recuperato un'opera importante per la comunità ma anche un'opera d'arte di rilievo del XVII secolo, un'opera che rappresenta la Vergine dei Santi e che si trova all'interno della chiesa di Moncioni, che purtroppo negli anni ha subito dei danni importanti. La volontà del Moncionese è quella di poterla restaurare e di riportarla al suo vecchio splendore ma naturalmente, come dicevo, l'opera ha un valore da un punto di vista storico e culturale però anche di appartenenza della comunità stessa. Già è stato dato un grande contributo per il restauro da parte della Fondazione CR Firenze che ringrazio personalmente perché ha donato 10.000 euro. Mancano i 6.000 euro per arrivare appunto al restauro completo dei 16.000 stimati quindi siamo a richiedere la collaborazione dei nostri concittadini perché ognuno di noi possa dare un piccolo contributo che possa però portare il raggiungimento di un obiettivo importante non soltanto, come dicevo, per un'opera d'arte che tornerebbe ad essere ammirata all'interno della chiesa ma anche come opera di appartenenza importante per tutta la comunità di Moncioni. Voglio ringraziare particolarmente anche la storica e la restauratrice appunto che si sono prestate in maniera generosa a sostenere questa progettualità che ripeto è un progetto importante per tutta la comunità.